Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Lo sfogo dell'attrice e influencer Nicole Olivieri dopo essere stata pesantemente insultata in un ristorante. Quello che è accaduto è assurdo. Il duro sfogo di Nicole Olivieri, l'attrice e influencer che racconta cosa le è successo al ristorante, dove è stata pesantemente insultata, fa riflettere Nicole Andrea Maria Olivieri, è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Indimenticabile e Amatissima i Cesaroni, dove ha recitato accanto ai bravi e simpatici Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Nella serie Ormai Cult, ha interpretato il ruolo di Alice Cudicini, dal 2006 fino al 2014. In seguito ha partecipato a Pechino Express, e poi ha intrapreso la carriera di influencer fondando un suo brand di cura della pelle. Nel 2014 si è sposata con il calciatore Christian Massella e ha dato alla luce, lo stesso anno, la piccola aria seguita dopo tre anni da Samuel. La polemica. Nicole Olivieri è diventata mamma per la prima volta a soli 21 anni. E la cosa ha suscitato diverse chiacchiere per la sua giovane età. La ragazza però si è sempre detta più che convinta della scelta fatta. A Vanity Fair infatti ha spiegato. L'uomo giusto, quello con cui passare tutta la vita, lo riconosci subito. E quando lo incontri che senso ha aspettare? Per me è naturale fare figli alla mia età. Credo di essere nella norma. E poi una donna sa quando è il momento giusto e io, dopo aver conosciuto Christian, mi sentivo pronta. Nicole Olivieri. Lo sfogo. Seguita sui social. Dove vanta un discreto seguito di quasi 900.000 follower. Nicole Olivieri dispensa consigli e racconta spesso la sua quotidianità. Cosa che ha fatto puntualmente in questi giorni quando è apparsa sul suo profilo per sfogarsi su quello che le è accaduto in un ristorante. Dove è stata pesantemente insultata. Cosa è successo? Racconta. L'altra sera ero in un ristorante con degli amici e dei bambini e mentre preparavano il tavolo. Una cameriera dice all'altra senza sapere di essere vicino ad un'amica. Certo che i social fanno dei miracoli. Poi la vedi dal vivo. Un commento che ha ferito molto la donna che ha aggiunto. La cosa che mi fa rosicare è che queste persone manco te lo dicono in faccia. Io non uso un K asterisco asterisco o di filtro sui social. Non mi modifico le foto ma pur di dire la classica frase fatta. Come darle torto? Oggi siamo talmente abituati ai filtri sui social che cambiano letteralmente i connotati. Che quando ci ritroviamo davanti una bellezza naturale nemmeno sappiamo riconoscerla. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.